Dal 2011 ad oggi quanti pneumatici fuori usi sono stati raccolti e con quali destinazioni? Abbiamo raccolto più di un milione di tonnellate dal 7 settembre 2011 che corrispondono in quantità a oltre 100 milioni di pneumatici vettura. Un numero quindi estremamente ingente che è stato tutto indirizzato al recupero, nulla è andato in discarica e nulla è stato disperso ovviamente di questa grande quantità. Il recupero si distingue in due categorie, il recupero di materiale soprattutto che è stata la maggioranza, più del 50% e per la rimanente parte il recupero di energia perché ancora i mercati della materia non sono sufficienti ad ospitare tutta la quantità, però abbiamo in progressione sempre maggior utilizzo di recupero di materia e quindi quella sarà la priorità del futuro.